Turno infrasettimanale, turno prepasquale, turno che a tre giornate dalla fine può avvicinare la Torres alla salvezza o può consolidare un playoff più agevole alla Carrarese. Buon pomeriggio da Marcello Scano, benvenuti su Leven Sports, questa è la giornata a Torres, ovviamente abbastanza pretenzioso. E qua Scotto scipa un ottimo pallone, Scotto prova il destro subito, altissimo però. Saltato di Achite, Schiavi si rialza subito, prima chiedeva il fallo, Urso comanda la transizione, Saporiti largo a destra, la rimette dentro, di testa Urso a lato, la toccata però, un difensore della Carrarese. Su Cicconi e adesso il piazzato di Schiavi a mettere dentro questo pallone, a mettere paura alla Torres, Schiavi direttamente in porta. che poi si allontana, Valiviero, colpo di testa di Achite, il capocannoniere della Torres, porta su il rosso blu quando siamo al diciottesimo, Adama di Achite, fa Torres 1, Carrarese 0. Ancora della latta, attacca la Carrarese adesso, i ritmi nettamente più alti dopo il gol, Grassini, cross dentro, Garaus, Manaccia, palla lì, e poi sinistro incredibilmente murato, col corpo da Antonelli, che praticamente salva sulla linea. Carrarese, Bosanai, centralmente, gli dà fastidio Saporiti a Bosanai, mette un super pallone, Energe, Energe, se lo mangia Energe. Conclusione a lato, batti e ribatti, Masala, prova a mettere ordine, non si intendono Urso e Saporiti, riconquista la Carrarese, corre centralmente a Bosanai, che può andare anche col destro, finta, destro ora, Garaus. Fabriani, binario di destra, prova a sfondare lui, Fabriani, palla arretrata, scotto sinistro, fuori d'un nulla. Bosanai, controllo orientato, va all'undici, destro, e buca le mani di Garaus, Bosanai, col terzo gol nelle ultime tre partite, compresa questa. Si gioca, si è rialzato il dieci, scotto, rimette dentro, salta Diachite, la tocca, a lato però, incornata di Adama, di Suola, area di rigore, cross dentro, Diachite, la tocca, Saporiti, pensa alla rovesciata, girata adesso di Saporiti. Palla fuori, applausi però, sia del pubblico. Ragazzi salta scotto, Capello, area di rigore, gran palla, Energe, si addormenta, para Garao. Energe, intensa attiva centrale, frena, perde palla, Cerretelli, verticale, Capello, varie finte, limite, Cerretelli, Energe, restituisce, Cerretelli! Garau, attentissimo, punto e a capo, un punto per parte, è successo tutto nel primo tempo, Torres uno, Carrarese uno, a Diachite, ha risposto Bosanai. La Torres...